Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti su The Wardrobe Siamo ritornati qua su questo fantastico gioco Perché in teoria oggi dovremmo fare il finale Appunto perché mi avete detto nell'ultimo episodio che è uscito appunto ieri Che siamo ormai vicini al finale, manca poco Mi avete detto esattamente quello che dovrei fare prima di andare al finale Me l'avete detto fino ad un certo punto Poi il resto ci devo pensare io Come sempre, moledetti Va bene, ok ragazzi, quindi iniziamo In teoria uno di voi mi ha detto che devo mettere le bombe Una bomba qua, giusto? E fare spiegare tutto Mi servirebbe qualcosa per fissarla alla cassaforte Ora, serve qualcosa per fissarla alla cassaforte Quindi io all'inizio uno di voi mi ha detto che devo prendere le bombe e metterle insieme alle bende Potrebbe anche funzionare se non fosse una stupidaggia E non funziona Allora ho un'altra idea Un'idea è un'idea Che cosa è simile alla colla Che già abbiamo visto in passato E ci diceva pure che era appiccicosa Allora Oh, vabbè, no, non questo Esattamente, non questo Tu, Chucky, rimani là Non ti muovere Se no io ti ammazzo, eh Andiamo al cimitero Fin dall'inizio io avevo pensato appunto Che quella cosa che c'era all'interno della grifta della nonna Servisse a qualcosa E quella cosa veramente ci serve Oddio, che lag è successo Vabbè, veramente ci serve quella cosa Ed è la ragnatela Che la ragnatela è appiccicosa Quindi, bomba sulla ragnatela Bomba appiccicosa Quindi adesso posso utilizzarla Intanto io parlo con la nonna Ciao nonna Sto andando a morire in guerra Che cosa mi dici? Ciao, chandelier Ci manca poco Ritorniamo qua Ora, dovrei fare due cose Uno Prendere a quanto pare soldi Che ci sono dentro La cassaforte Ok Perché mi avete detto Che ci sono soldi là dentro Che poi devo andare a fare una cosa Con un calderone Non ho capito il motivo Attiva il timer Subito Siccome è una bomba Della seconda guerra mondiale Esplode Va bene Quindi mi avete detto Che dicono Con i soldi che ci sono dentro Li devo mettere nel calderone E poi ritornare nel 1981 Questa cosa non me la spiego Ma facciamola Ok Non ti è venuto in mente Neppure per un momento Che qualcuno potrebbe sentire Il botto dell'esplosione E chiamare la polizia Essendo una bomba Della seconda guerra mondiale Presumo Ma so già come risolvere il problema DJ alza quella cavolo di musica Alza la musica vai Potresti aumentare la musica A tutto volume? Non mi sente Non credo che riesca a sentirmi Ah infatti Non mi sente Ecco perché ci siamo tenuti Il megafono Per tutto questo tempo Ma l'apelito Non serve a nulla Allora Vabbè Megafono Facciamo così Potresti aumentare la musica A tutto volume? Ok Ha detto di sì Ma do le cuffie Bene Attiviamo il timer E usciamo Della casa Quindi dovrebbero bastare Per uscire da questa casa E per non morire Via Via Devi uscire dalla casa Via Non dalla stanza Dalla casa Già sta facendo? Ah però Ma Quella non era una bomba Della seconda guerra mondiale Forse ho esagerato Con la polvere da sparo Ma quella non era una bomba Della seconda guerra mondiale Quella era una bomba Petardo Oh mio dio Vabbè Va bene Era caricata a polvere da sparo Da petardo Vabbè Lasciamo perdere Ora Banconote Ok Banconote Un gruzzoletto mica male Eh immagino Di chi è questa casa Volendo potrei comprarmi Qualche appartamento in centro Quello del mattone È sempre un investimento sicuro Effettivamente è vero A meno che non devi pagare L'imu Bollette Tasse Prima casa Seconda casa Mia non E va a far bagno Allora Stato Perché tutte ste tasse Togliamole Ovviamente La polizia Non ci chiamerà per nulla E soltanto ora Mi sono accorto Che c'è il simbolo Di The Sims Va bene Usiamo fuori Ah vero 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 Intanto lo vediamo qua Mi devo ricordare Sti numeri Siccome io voglio chiamare pure Le persone che ci sono qua Dopo che avrò le monete Facciamolo Ok ce l'ho Ora Torniamo sotto Andiamo di qua Allora Ovviamente noi abbiamo Le banconote Big money I big money Posso chiamare Perché mi servono le monetine E mi avete detto Ciò che devo fare Ritornare nel 1981 Perché là Ancora non esisteva Nel banconote Non ha senso Questa cosa di ritornare Nel 1981 Se è possibile Scusate un attimo Però Creatori del gioco Potevate inventarvi Qualcosa di più Geniale Ah l'ho già girata La targa Vero Mi ricordo L'ho già girata La targa Ok Banconote Dentro il calderone Fatto La cosa strana È che io Sto mettendo Delle banconote Dentro il calderone E mi trovo Nel futuro Perché se vado Nel passato Le ritrovo scambiate E dovrebbe essere Il contrario No aspetta Siamo in Italia Le banconote Manco sarebbero Esistite più Che tutti i latri Vanno a pre Non l'ho messa Io la data 1981 Vabbè vai Chi se ne Vai Siamo pronti Ora vorrei fare Più cose Ragazzo Sconsolato Come mai Quell'aria triste Tutti i miei coetanei Hanno i capelli lunghi E cotonati E io invece Oddio E ho praticamente persi Oddio Beh in effetti Perdere i capelli Negli anni 80 È forse la cosa peggiore Che ti potesse capitare Sempre Molto Sempre Molto Consolatori Skinni Vedo Ragazzi Execute Oltre a execute Che ci abbiamo Un pallone di calcio Anni Il mondiale dell'81 Può essere Non esistono Petrolio Va bene Adesso noi abbiamo le monete No Ancora le monete No Vediamo Sì Monete Ok Io non mi faccio domande Perché adesso ho le monete Non me le faccio Vabbè Non me le faccio Ora ragazzi Divertiamoci A chiamare un paio di numeri Ah ho capito Perché execute Nel 1981 Erano soltanto Delle uova Poi si è voluta Diventando Della palma Geniali Ci siamo ragazzi Prima di andare a chiamare il corriere Vorrei fare diverse cose Iniziamo a chiamare gente a caso Quindi si prende i penni Si mette dentro Prima di inserire le monete Andrebbe alzata la cornetta Ah giustamente hai due mani Scusa Skinny Scusa Beh metti qua dentro Voglio Voglio chiamare quelli che puliscono Zero Nove Otto Otto Nove Uno Uno Ok Ian Seeds cleaning Come posso aiutarla Hey Ian In questa parte ci sarebbe bisogno di fare un bel po' di pulizia Perché non mandi quattro scope e due secchi magici Che figata Fantasia Non ci credo Bellissimo Voglio chiamare un altro numero Ora che ci penso Il servizio è vietato ai minori Quindi riattaccherò Ma io sono maggiorenne Avverto distintamente il profumo della tua sofferenza Ok forse non è vero che sono maggiorenne Ancora per poco Skinny Poi vedremo Contattiamo il corriere Zero Vabbè Forza dai Corriere Forza Oddio Mi ricordo Devo fare due cose Aspettate un attimo Allora io intanto chiamo il corriere Ma prima dovrei fare due cose Nove Zero Uno Corriere Salve Corriere IP Espresso Come posso esserle utile Buonasera Vorrei effettuare la spedizione di una cassa funebre in via venerdì 13 Spese a carico del destinatario È al corrente delle nostre condizioni generali di impacchettamento Mi dica pure Per evitare di riportare danni durante il trasporto richiediamo di avvolgere l'oggetto con del materiale che attutisca gli urti Solitamente della plastica da imballaggio ma può servirsi della soluzione che preferisce Va bene Sì non c'è alcun problema Richiediamo inoltre che l'involucro esterno del pacco sia assolutamente idro repellente Ce l'ho E potrà sembrare una richiesta un po' strana Ma i nostri autisti in passato hanno dimostrato un certo feeling con i corsi d'acqua della zona Sono attrezzato anche per quello E per finire è necessario identificare il pacco con una scritta che ne indichi chiaramente il contenuto Sì Mike do la soluzione Mi scusi non credo di aver sentito bene Sì dicevo nessun problema Le faccio arrivare immediatamente il corriere per la sua spedizione La ringraziamo per aver scelto la nostra compagnia Arrivederci Arrivederci Ragazzi kit di imballaggio Ecco a cosa servivano sia le bende sia il telono Vabbè il telono si capiva le bende un pochino si capiva ma pure lo spray ecco che cosa serviva Io adesso però voglio contattare scusate un attimo Voglio contattare il servizio clienti di questi qua dei suicidi Così completamente a caso A quanto pare hanno anche il servizio clienti Aspetta un attimo 0 0 0 1 7 1 7 0 Ok Puoi non dire che non penso mai a te 3 0 17 17 0 2 0 Servizio informazioni cabina suicidio Sì lo sapevo Come posso aiutarla a suicidarsi oggi? Veramente sarei già morto Mi spiace ma il nostro servizio non prevede la possibilità di suicidio per i già morti Non ci credo Ci rischiamo di qualora tornasse completamente in vita Arrivederci Oddio che figata Dovevo chiamare un codice Il codice binario Non saprei che farci Gli stavo mettendo il kit di amballaggio Perché se non sbaglio Devo dare una cosa a Morpheus E mi dovrebbe dare una pillola Mette la pillola Come faccio? 3 4 Funziona? Dovebbe essere quello? Svegliati Neo Matrix a te Segui il coniglio bianco Ok La pillola blu Ovvero il Viagra Per il nostro Morpheus Ok Prima di imballarci dentro quel cavolo d'armadio Direi di andare da Morfeuccio E dargli questa pilloletta Che gli serve la pilloletta Allora Morpheus Con sta musica Che porca miseria Mi sta disegnando Se ne ha scritto Make it stronger Oddio Ho con me qualcosa Che la renderà molto felice Attenzione Non Perché non è felice? Che cos'è? Pillola rossa Per farti un giro Nel paese delle meraviglie E vedere quant'è profonda La tana del bianconiglio Non sono del tutto convinto È una droga Che importanza ha il resto? Se è una droga Via qua Come? Skinny No Come? Sapevo che saresti morto Che sta succedendo? Sono entrato in Matrix Che succede? Credo di essere ancora in trip Aveva ragione comunque Gusto fragola Ehi ciao Benvenuto all'Ashkrieff Hospital Mi hai fatto venire un colpo Sei venuto a farmi visita? Veramente io non so nemmeno cosa ci faccia qui Nessuno che venga mai a farmi visita Pensate sempre solo i pazienti Senti Mai qualcuno che pensa alla povera Ambra? Ma la voce quella là Somigliava a tanti No no Non è Non so se è Ambra veramente Quella di La ragazza di Mike Showsha Però se è lei ok Questi sono i creatori del gioco ragazzi Guardate qua Sono i creatori del gioco Che si sono ispirati a Monkey Island Questo gioco che non ci ho mai giocato Ovviamente qua ci sono le animazioni E i disegni del gioco di The Wardrobe Posso parlare con loro? Vero? Bussa? Cercavi me? Niente Ma chi hai tu? Posso raccontarti la mia giornata se vuoi? Sei Spider-Man Veramente sto cercando di attirare l'attenzione di quei tre là dentro Ma sembra che non mi sentano Pensi solo ai pazienti Cosa ti ho fatto di male? In realtà nulla Voglio solo parlare con loro Va bene D'accordo Addio Ma poverina Parla di Skinny Ragazzi c'è Skinny Cosa? Ehi cola Sai il mio nome? Skinny Ti ho creato io Vuoi che non sappia il tuo nome? Mi ma come lo dice Sembra un siciliano di quelli doc Oh Skinny Ti ho creato io Ma è siciliano Magari è catanese Lo voglio conoscere Basta Dove siamo di preciso? Dove siamo di preciso? Ti do il benvenuto nel nostro nuovo studio Siamo in fase di tutti durante lo sviluppo di The Wardrobe Troppo stress e lavoro da fare Face con Francesco a capo del progetto Ho un carattere difficile È vero Quindi tu sei il capo? Come sarebbe a dire che mi hai creato tu? Skinny Su via Sai benissimo di essere all'interno di un videogioco Cosa pensavi di essere? Il frutto dell'amore di due pezzi di codice in C Sharp? Ti avrò ridisegnato centinaia e centinaia E di volte altro che Per Diana Per Diana Addirittura per Diana Che altro statevi sviluppando adesso? Che altro state sviluppando adesso? Considera questo momento come una sorta di strana anomalia temporale Siamo sempre a lavoro su The Wardrobe Anche se in realtà è già uscito da un pezzo Non è che per caso state lavorando a un seguito in gran segreto? No Ok ok non c'è bisogno di scaldarsi Mi sa di sì Stanno lavorando a un nuovo The Wardrobe Grandissimi Avrete avanzare un paio di richieste Ma che... ma che cavolo? E che ne dite di... Alt Mi spiace ma puoi esprimere solo tre desideri Ma i desideri si esauriscono solo dopo essere stati avverati Certo ma io non sono il genio della lampada Oh Skinny Attenzione il creatore più furbo di te Perché sono stato riportato in vita? Non sta a me dirtelo Lascia che lo scopra il giocatore Allora vaffanbagno Come faccio a uscire da qui? Ti basta tener chiusi gli occhi abbastanza a lungo E ricordati sempre che nessuno può vedere oltre le proprie scelte In che senso? Mi stai forse dicendo che sono l'artefice del mio destino? Dannazione no Sei in una maledetta avventura grafica Prima parli e poi dici altro Come si è combinato francei Ormai siamo alla fine del gioco Siamo alla fine del gioco Abbiamo fatto tutto Kit da imballaggio Armadio Credo che così finisca no? Sto aspettando un corriere per portarvi all'armadio Non è che potresti impacchettarmici all'interno con questo kit? Devo fare un bello scherzetto Amico sono sempre pronto a dare una mano per questo genere di cose Come vorrei poter vedere la sua faccia? Non riesco a immaginare che spavento si prenderà Neppure io credimi Oddio Ronald morirà insieme a lui Tipo così di nuovo morirà Tipo Ehi sono skinny E muore Ecco perché si chiama il Cristo Corriere Oh però non sbattetela sta cassa E non sbattetela Oh calma Questi qua non si affilano raga Questi qua non si affilano Oddio Che è sta roba Ecco perché non si affilava Perché il tizio ha cambiato lavoro Anziché diventare traslocatore è diventato Corriere Cosa succede? Eh non è uno di Matrix Quello è Ronald Sì quello è Ronald Guardate Ha i capelli lunghi Oddio Lo Slender Perché? Spiegatemi il motivo Mi dovete spiegare Oddio È morto? Non per dire Ronald Ronald svegliati Non è morto allora Ronald sono io Skinny Oddio Oddio Questo è un gruppo rock Questo orologio non segna la mezzanotte Ah perché mancano pochi minuti Prima che lui diventi Ok ho capito C'è da ammetterlo È dolce Skinny quando vuole Che cos'era questa? Non potevi sapere della mia allergia Persino io non ero a conoscenza In fin dei conti ci sono un sacco di vantaggi a essere morto Ho un'infinità di tempo libero Posso mangiare tutto ciò che voglio Senza dovermi preoccupare della linea Sono persino immune all'elettricità Neppure fossi un supereroe Ma che cretino Ok Ok Skinny Ok Comunque si vede che lui ha dei generi veramente stupendi Mamma mia Pink Freud Pink Freud Vabbè Slipknot ok Tutto rock allora eh Mi dispiace che tu abbia sofferto tanto So quanto è stata dura per te da quel giorno Ma non hai nulla da rimproverarti Credimi Io non ho nulla da rimproverarti Non riuscivo a respirare Non riuscivo a respirare Ti sentivo soltanto urlare Non fu difficile capire cosa stava per accadere Ma incredibilmente Quella è l'ultima cosa che ricordo Nessuna luce da seguire Nessuna esperienza extracorporea Solo un grande nulla Un po' deludente Non credi? Sì Quando finalmente mi sono svegliato Era tutto buio Ci misi un po' a realizzare di essere in un armadio In questo armadio Lo so è davvero assurdo Ma è la verità Sono stato riportato in vita E ora sono uno scheletro Ancora là Se hai skin Dici qualcosa Devi parlare Scusa io lo dico io Devi parlare Devi tornare a parlare Se non dirai a qualcuno Quello che è successo quel giorno Finirai per essere dannato in eterno È per questo che sono qui Perché Ti voglio bene Ronald Skinny Cosa? Vabbè Follow the ba Oddio Ciao Skinny Dove sta andando? Skinny Aspetta Non andare Ah ma È tornata a parlare Cosa? Nooo Skinny The wardrobe È finito ragazzi Ok È finito Che dire Incredibile È stato Come si dice Assunto in cielo Perché non è stato più dannato Ha detto tutto quello che doveva dire E vabbè ragazzi Io direi che il video Lo posso concludere qua Mentre stanno andando via I titoli di coda E ragazzi Se non siete ancora iscritti Al canale E ragazzi Io spero tantissimo Che questa serie Che su The Wardrobe Vi sia piaciuta Lasciate immediatamente Un like Per questo finale di serie E se non siete ancora iscritti Al canale Che cosa aspettate Iscrivetevi immediatamente Mettete mi piace Alla pagina di Facebook E seguitevi fuori su Instagram E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao Questa festa è un vero mortorio Ah sì Quasi dimenticavo Sei morto Quasi dimenticavo